Per il ciclo Love Story, cliente in arrivo. Mi sa dire quanto tempo ci vorrà? Dipende da lei. Nel senso? Sì. Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd. Catherine è mia nipote. Meg Ryan. Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta. Si è divertito, gridava Wahoo. Tim Robbins. Da quanto tempo lei non grida più Wahoo? Walter Mattow. Genio per amore. Concetto interessantissimo. Venerdì alle 20.55.